mamma mia buongiorno ma che è successo stamattina geni geni ma dove sei? sono sotto le torri sono peppe ragazzi buongiorno a tutti buongiorno a popo voglio buona domenica a tutti quanti a domenica a napoli come sapete è super sacra si mangia solo pesce voglio stamattina robino sta poco rilassato non so perché ma vi vedo molto agitati ma cosa è successo ragazzi c'è qualche problema ma lo so potete stare poco bene ragazzi vedo un poco troppo indaffalati fammi scendere devo dire una cosa molto velocemente velocemente vedi poco qua in mezzo al mio popolo vedi girate un poco peppe girate un poco girate un poco intervistiamo il nostro popolo signore scendete in mente voglio dire una cosa che lavoro faccio non so giusto per sapere operatore colore una brava persona che lavoro fa? barrista una bravissima persona che lavoro fa? tutti bravissima persona sono tutti brava gente vedete come vedete tutto quanto tutto il popolo sono tutti brava gente ma no è così sono tutti buoni sono tutti buoni perché quando vengono da noi fanno sacrifici per una notte o una mattina fanno inutato a capo sono tutti brava gente e questo che vado a imparare perché ad essere umili fino alla morte perciò non so dietro con i piedistalli perché a scendere ci vanno un secondo a salire ci vanno a salire ma a scendere ci vanno un secondo quello che fanno anzi è sempre questo qua oi noi cominciamo assicci 20 euro al chilo per tutti vai sempre fuori di natale per farle vedere vanno a farle pochi prezzi 2 kg e 3 kg e 3 euro dì ma questo è il patatino san carlo voglio polipi per tutti polipi per acci per tutti vanno a vedere 12 euro al chilo per pescatrici gambero guarda questa paranzia di broci dì bello brillante a prima gambero polipi seppie vive prendi gli occhi prendi gli occhi 8 e 99 polipi per acci grandi 12 e 99 e 30 premi regli faccio il bulpipi per tutt'altro voglio molti panci sguoglie lo scontño seppie qua worden lo scontro calamario frisco dente spirito per ora miscatrici come traFirst apprezzati vieni vieni spettacolo facendo un spettacolo questa mattina... vieni i pò! vieni da la bella mano! guardate che potete fare una buona a tutti! pevande la buona! concovo! concovo 8,99! vieni da la Among you! facendo la bella mano! vieni vieni! orate sempre 5,99! 45,99! non indirizzo! 3, 2! ma di me invece! però ve lo so di una cosa prodotti sempre al top e prezzi sempre migliori! prezzi sempre migliori! cerchiamo di mantenere il prezzo migliore sempre la maggiori! Ragazzi noi vi aspettiamo tutti quanti, vi auguriamo una buona Viene la pavacca, facciamo polè, vediamo Ma non sto facendo preguiti Qualcuno può dire che sei la pavaccio Vieni peffi, vieni Vieni peffi, vieni Facciamo vedere i calamari nostri che non sbagliamo la pasta Guarda ecco, vieni, ce lo bianchi, vieni Guarda, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Teniamo il polpo con tutto il ritardo, vieni Mamma mia, i poli peffi Maggio, non si finisce, non si finisce più Poi i peperaci grandi, per l'insalata, per tutto Quanto, vi aspetto, vi voglio bene Un bacio forte a Robin Hood E il suo magnifico popolo Bacio a buona domenica Vi aspetiamo bene